Simona dica trentatré. No dottor Piretta io non dico trentatré dico placebo trentatré una trasmissione di salute che va però ascoltata in radio e poi con noi per monitorare e fare screen anche un giornalista che non se ne perde una di notizia Andrea Pancani. Placebo trentatré perché? Diciamo che il trentatré è il numero perfetto per il medico perché è il numero che ci consente di sentire una serie di vibrazioni del torace. E placebo? Effetto placebo? L'effetto placebo è quello che non ci aspettiamo dalla medicina un po' come questa trasmissione. Vi dico l'argomento della puntata che è il DAP che cos'è il disturbo di attacco di panico se volete telefonare chiamatelo 06 5 1 9 0 3 6 3 oppure se volete scrivere scrivete a placebo trentatré chiocciolatiscali.it oggi parliamo di sindrome di attacco di panico che cos'è dottor Piretta? L'ansia è un modo di difenderci da parte del nostro organismo nei confronti di alcune situazioni che funzionano da stimolo e che ci incutano in qualche modo terrore. Quando questa situazione si verifica in assenza dello stimolo o è smisurata in rispetto allo stimolo che l'ha provocata parliamo di una sindrome di attacco di panico. Quindi la paura della paura un po' quello che sta capitando a me in questo momento. C'è una telefonata forse in diretta. Buongiorno con chi parlo? Buongiorno sono fulvio fobico. Buongiorno. Fulvio fobico? Buongiorno. Sì in nomen est nomen questa è la mia condanna. Vi prego rispermiate l'ironia. Volevo parlare con dottor Pirelli. No eh mi susi Piretta. Sì. Buongiorno. Buongiorno dottor Pirelli. Dica. No il consiglio chiedo a lei come faccio a superare la paura della paura. Ma di cosa ha paura? Di parlare con lei. Però vorrei parlare con lei quanto esperto di attacco di panico. Io sono un dappista. Fulvio fobico giusto? Fulvio fobico. Fa parte di quei due milioni di italiani dottor Piretta che soffre di attacchi di panico? Sì un milione ce l'ho solo io purtroppo. Me li sento tutti addosso. Ma dunque adesso l'attacco di panico è una reazione seria signor fobico. Ecco infatti prendetela seriamente voi perché non mi pare per favore. Signore. l'attacco. È una trasmissione di medicina questa. È una trasmissione di medicina e speriamo di riuscirla a curare signor fobico. Ecco. Chi soffre di attacco di panico spesso cerca di evitare la situazione che provoca l'attacco di panico. Siccome l'attacco di panico. Quindi potrei interrompere la telefonata qui. Per esempio. Arrivederci allora. È caduta la linea. Ma questo prendo spunto da questa affermazione del gentile ascoltatore. Fulbiofobico. Fulbiofobico. Che per dire che effettivamente il dappista cioè colui che soffre di attacco di panico spesso cerca di evitare come tecnica per star meglio le situazioni che gli creano la crisi di attacco di panico. Siccome spesso questa è una conseguenza dell'agorafobia ovvero la paura dei luoghi all'aperto dei luoghi affollati si rischia di arrivare nella situazione in cui il paziente addirittura non esce dal proprio domicilio. Questo invalida molto la vita sociale di una persona. Soffrono di più le donne o gli uomini? Tendenzialmente le donne però questo è un discorso molto relativo perché questi disturbi sono più frequenti nelle donne anche se gli uomini cercano di controllarli meglio perché si sentono di svolgere un ruolo sociale di presenza maggiore di di uomo ecco. Io voglio approfittare del dottor Piretta per chiedergli sono il contrario dell'ipocondriaco e questo come dire può essere comunque in qualche modo rischioso? Io credo che l'atteggiamento del non avere paura di fronte alle situazioni in genere sicuramente è positivo. Il rischio di essere eccessivamente scrupolosi può portare a dei comportamenti fobici perché l'atteggiamento fobico è proprio quello di avere una paura eccessiva di una certa cosa. Questa cosa può essere anche una malattia di lì in termini nosofobia oppure della pulizia. Ci sono alcune persone che si lavano le mani tre quattro volte prima di andare a tavola. La fobia del non riuscire a chiudere casa, di non essere certi di aver chiuso bene casa e si ritorna indietro per richiudere a chiave. Con le litigate terribili tra moglie e mariti. Con le convivenze difficilissime. Ecco queste situazioni esasperate possono introdurre la situazione dell'attacco di panico perché quando questo diventa così reverberante e condiziona così tanto la vita di una persona può poi comparire l'attacco di panico. Quindi le fobie anticamera campanella di un attacco di panico. Esattamente. Comunque non diamo i numeri pallottoliero alla mano 5190363 con il prefisso 06 per chiamare placebo 33 in trasmissione. Forse c'è un'altra telefonata. Pronto? Chi è in linea? Pronto? Dottor Pirelli? Sì. Sono fobico. Sì. Un attimo. Lei è fobico di nome o fobico perché ha un attacco fobico? Ambe due dottore. Volevo chiederle. Lei prima stava parlando di atteggiamento fobico quindi chiaramente di me e io mi sono sentito un po' in dovere di interpellarla. Parlava di agorafobia. Sì. Ecco io in questo momento mi sono perduto, mi guardo intorno, non so, è un posto di Roma ampio, grande e volevo chiedervi come fare a ritornare a casa perché non mi ricordo se ho chiuso bene e non ricordo niente. Lei è da solo o accompagnato? Sono da solo anche se in realtà sono in mezzo a qualche centinaio di persone però. Lei avrà sentito che io dicevo che per evitare proprio questi attacchi di panico chi soffre di agorafobia abitualmente cerca di evitare queste situazioni. Quindi non dovevo uscire di casa. Non dovevo uscire. Quindi sono anche stupido mi sta dicendo dottore. Grazie per il mio panico in questo caso. Ma lì vicino a lei, intorno a lei non c'è nessuno a cui può chiedere aiuto? Mi vergogno, come si chiama lei pancake? Pancani, Pancani. Non lo so, arretri verso il muro? Cos'è? Uno, due, tre stelle? Signor Fobico, dottor Fobico, ci sarà un pronto soccorso? Non sono dottore, io cerco un dottore, dottoressa Simone, come si chiama? Sì vabbè, importante che ci capiamo. perché io mi chiedo, dottor Piretta, quando il dapista va al pronto soccorso, che tipo di assistenza riceve? Ma dunque innanzitutto, quando il dapista va al pronto soccorso è quasi sempre perché teme di avere un infarto e ha la sensazione della morte imminente che è un sintomo molto frequente nell'attacco di panico e spesso viene sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per escludere la patologia cardiologica, dopodiché viene salutato, come dire, lei non ha niente e lo mandano a casa. Il problema è proprio quando questi pazienti poi vengono a casa, perché arrivano a casa si sentono anche con un senso di colpa di stare male senza avere motivo. È chiaro che queste persone hanno bisogno di un supporto specialistico che va non solo in termini di farmacologia, perché ci sono i farmaci giusti e vanno utilizzati soprattutto all'inizio, perché far avanzare gli attacchi di panico per paura poi di prendere i farmaci, questo può comportare che gli attacchi sono sempre più frequenti e diventa poi difficile prevenirli farmacologicamente. Posso fare sempre una domanda a Piretta, ricollegandomi alla telefonata del signor Fobico, ma se per esempio una persona qualsiasi si trova in quella stessa piazza e assiste ad un attacco di panico? Primo soccorso è cercare di lasciare il paziente, magari sdraiarlo, slacciargli la camicia, slacciargli la cravatta, perché la sensazione di soffocamento è dominante, quindi liberarlo magari di catenine o di cravatta o di cose che può... cercare di non fargli andare molte persone addosso che si interessano, che lo opprimono ancora di più. Poi chiaro ci vuole l'intervento medico a quel punto, però attenzione, la prevenzione della ricorrenza degli attacchi di panico non si fa con gli ansiolitici, ma con certi antidepressivi che comunque devono essere di gestione Una terapia comportamentale, cioè un'analisi psicanalitica. Esatto, di pari passo alla terapia farmacologica è necessaria una terapia cognitivo-comportamentale che viene fatta dallo specialista abitualmente. E parliamo invece dello stress. Lo stress fa da detonatore al DAP? Istintivamente direi di sì, da perfetto incompetente, credo di sì. Anche l'incapacità, forse sentirsi caricati di molte responsabilità, dover affrontare per esempio, mi viene in mente anche qualche collega che magari quando deve parlare in pubblico e quindi non più nella sala di incisione incide in un servizio, comincia ad avere qualche sintomo. Lo stress cronico predispone a questo tipo di disturbo, nel senso che se uno vive quotidianamente, tra virgolette, con i nervi a fior di pelle, è più labile e più esposto a che situazioni scatenanti possano determinare una sindrome di attacco di panico. La paura di parlare in pubblico rientra tra le fobie, chiamate sociali, che possono essere il preludio a un attacco di panico. Vediamo se c'è un altro radioscoltatore in linea per placebo 33 allo 0651903. Chi c'è in linea? Pronto? Dovrei parlare con quel bravo dottore Pirelli che mi ha dato quello... Signor Fobbico. Sì, sono Fobbico. Sei ripreso? No, ero molto preoccupata per lei, quindi... È un'avventura la mia. In ansia. Ho una crisi ansiogena da stress. Dov'è? L'hanno soccorso. Beh, dov'è? Ho provato a chiederlo prima a una ragazza, mi slacciava la camicia, mi ha dato uno schiaffo e se n'è andata. Adesso poi... Adesso mi trovo disteso per terra e un tizio mi ha tolto la catenina, come diceva il dottore. Ma quindi respira meglio adesso? Mica tanto, perché mi hanno tolto anche le chiavi di casa. L'hanno alleggerita. Ma la persona che gliel'ha tolta è stata lì con lei? Questo è il fatto che se n'è andata, ha detto che andava a casa mia e io in questo momento ho una serie diversificata di ansia, dottore, grazie a lei dovrei anche aggiungere. Forse ha bisogno non soltanto del primo soccorso ma anche di una telefonata alle forze dell'ordine. Esatto, ai carabinieri che non credo che voi siate in grado di dirmi. No, anche perché lei non è in grado di dirci di dove dov'è. Dottor Pirelli me lo doveva dire lei. Dottor Pirelli, senta signor Fobbico, lei deve andare a Pavia. A Pavia? Allora, a Pavia c'è un istituto di neuroradiologia. Lei va lì, si fa fare una bella risonanza magnetica funzionale, ecco già la sento carico, la predisposta. No, non respiri così che le gira la testa. Dopodiché cosa succede? Non le dico che mi dottore perché grazie a lei comunque. Allora la bombardano con degli incubi, delle immagini ricorrenti legate ai suoi incubi e le vanno a fotografare di sconvolgimenti del suo cervello. Mamma mia. Quindi lei può contribuire anche alla ricerca, cioè diventa un volontario che contribuisce alla ricerca, fotografano l'attacco di panico e voilà. No, dico detta così un po' inquietante. Dottoressa Simone è orribile quello che mi fanno. Io concordo. No, lei fa parte di quelli. Grazie Pancake. Pancake. Ma la ricoverano, è per fare questo. Ma io non voglio essere ricoverato, io voglio tornare a casa, dottor Pirelli. Grazie a lei io sono perso in una piazza, non so dove mi trovo. Mi hanno rubato la catenina, le chiavi di casa. Ci sono fontane nella piazza? Statue, obelischi? No, l'unica statua un po' fesso, un po' obelisco mi sento io qui sdraiato. Signor Fobbico, lei ha famiglia, ce l'ha una moglie? Mi pare, sì. Perché non chiama sua moglie? Perché non so come fare, non mi ricordo il numero. Però si ricorda il nostro, placebo 33 06 51 90 363. Quindi me la chiamate voi? Le la chiamo io, andiamo avanti. Grazie. Allora, dottor Piretta, esiste un altro tipo di panico che è la mancata, cioè la tecnologia fa blackout e la persona va in tilt, si chiama sindrome da connessione. In Inghilterra, Andrea, ci hanno provato, hanno cercato di fare una giornata senza mail e tutta la popolazione anglosassone ha dato forfè, andata in tilt. Ti capita? Se non dispongo di un computer, sono in un posto dove non posso connettermi, anche se oggi è praticamente impossibile non riuscire a connettersi, inizialmente forse ho qualche timore, mi sento un po' escluso, come dire, c'è questa sindrome non solo di essere connessi, ma di essere sempre continuamente informati, forse anche per via del mio mestiere, su quello che succede nel mondo. Poi ci accorgiamo che il resto dell'umanità più o meno se ne frega di noi e noi possiamo vivere bene anche non sapendo per un'ora cosa succede nel mondo e quindi dura un attimo questo mio timore. Questo è un segno del passo del tempo perché lo stesso attacco di panico, in realtà è vero che esiste da tanto tempo, ma ha avuto come esplosione epidemiologica questi ultimi anni. Un tempo c'erano le crisi steriche, le donne avevano le crisi steriche, oggi non esistono quasi più, al pronto soccorso quasi non esiste più la necessità di distinguere una crisi convulsiva da una crisi sterica, non esistono più gli svenimenti da innamoramento. Si può guarire di DAP, vero dottor Piretta? Siamo quasi in chiusura. Si può e si deve e soprattutto bisogna condannare l'atteggiamento che si ha di solito, ma anche da parte di noi medici, nei confronti del paziente che soffre di DAP. Si tende a sottovalutare e a non dare la dignità di malattia a questi disturbi, proprio perché il medico è portato a dare dignità di malattia soltanto a ciò che vede e alle malattie organiche, mentre le malattie della mente spesso vengono ignorate. E bisogna capire fin dai primi momenti quando c'è una situazione di DAP perché può essere curabile soltanto se presa per tempo e far sì che non si instauri una cronicità del disturbo con le conseguenti paure dell'arrivo della crisi successiva che devastano la vita sociale della persona. Allora, ultimissima telefonata 065190363 in linea, buongiorno, con chi abbiamo il piacere di riparlare o di parlare? Dottore, non ho capito niente di quello che ho detto prima. Buongiorno. Comunque, volevo comunicare a... No, aspetta, mi scusi. Sta meglio però. Mi deve spiegare come fa a prendere sempre la linea. Ma non lo so, ho stabilito un rapporto. Sta là col pollice proprio... Una corsia preferenziale con la vostra segretaria. Dunque, volevo dire dottore e anche a Pancake, la dottoressa Salle... Volevo dare conto, come dire, del finale positivo della mia avventura. Sono a casa, sono sbagliato, sono sul divano. Siamo contenti. Sono sul divano, mia moglie sta cucinando un bel pollo e qui il problema mi ha creato però, questo piatto mi ha creato l'ennesimo stato d'ansia e vorrei chiudere con una parola definitiva a parte del dottor Pirelli. Devo prendere, visto che il pollo mi fa venire in mente il panico da influenza aviaria. Devo fare un vaccino per curare l'ansia o devo prendere il basta d'apil che prendo tutti i giorni? Direi che tanto si può mangiare il pollo perché, come sappiamo, non si trasmette l'influenza aviaria mangiando la carne del pollo, primo. Secondo, la sua cura, ahimè, non è quella del vaccino perché la sua fobicità è legata a problemi più radicati che vanno risolti non con un vaccino o con la pillola che sta prendendo. Mi sembra di cogliere una leggera ironia, un po' di sarcasmo. Non mi permetterei mai, però le consiglio una cura da uno specialista. Quale? psichiatra vi sta dicendo? No. Per esempio. Ah, ecco, vedi, allora, l'ironia era vera. Vabbè, grazie dottor Pirella, grazie Pancai e Pancake. Grazie. Grazie. Meno male. Allora, si chiude così questa prima puntata di Placebo 33. La nostra chiacchierata è servita perché almeno il signor Fobico sta meglio e a casa. Merito comunque del dottor Luca Piretta che l'abbiamo preso in prestito al Policlinico Umberto Prima dove si occupa di gastroenterologia e di nutrizione. Grazie anche ad Andrea Pancani che è il Buongiorno della Sette con la sua trasmissione mattutina di Omnibus. Allora, io vi aspetto a Placebo 33. Grazie a tutti e grazie anche alla regia Giovanni. Grazie.